Buonasera da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione andando a sentire i commenti alle elezioni amministrative che si sono svolte domenica 26 e lunedì 27 maggio. Al microfono di Laria Tettamanti il segretario nazionale della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Ascoltiamolo. Segretario Salvini, prima giornata di elezioni amministrative, molti vanno al ballottaggio. L'ha detto con la Lega o si vince o si va al ballottaggio? Sì, innanzitutto grazie ai nostri splendidi militanti, ai candidati, a chi ha vinto e anche a chi ha perso e vincere la prossima volta. Lombardia, buoni risultati, avevamo 14 sindaci uscenti, ne abbiamo al momento riconfermati già 14, più altri comuni che stanno ancora spogliando le schede e altri comuni che vanno al ballottaggio da Brugherio a Bareggio a Bresso, passando ovviamente per Brescia e per Lodi. Quindi soddisfazione con una Lega che non solo c'è ma cresce. Dove non c'è la Lega, il centrodestra non vince, nelle altre città del Nord ce la giochiamo, ce la giochiamo a Treviso, ce la giochiamo a Imperia e quindi la partita non è finita. Ci sono ancora 15 giorni di tempo per riconquistare alcune città. Quindi puntare sempre sul cavalli di battaglia della Lega, le ricordiamo? La differenza la fanno le persone a livello comunale, quindi contro la Lega c'è tutta la stampa locale, ci sono le televisioni, ci sono le radio, nonostante questo non solo abbiamo tenuto ma abbiamo anche conquistato comuni nuovi. Lombardia penso ha travagliato piuttosto che ha Trescore e Cremasco. Detto questo c'è ancora da correre, c'è ancora da crescere, sono ottimista perché il lavoro dei tre governatori di Veneto, Piemonte e Lombardia ha cominciato a dare i suoi frutti e li darà nei mesi a venire. Quindi questo era un test importante dal mio punto di vista superato e superato bene. E' un test anche il primo dopo l'insediamento del nuovo governo, si può già fare un primo bilancio anche di alcuni partiti, chi ha tenuto di più o di meno in generale? È evidente il calo di Grillo, è evidente il calo degli elettori, questa è una brutta notizia per tutti. Probabilmente i governi delle ammucchiate, del PD e PDL, del voto a sinistra ma poi tanto non cambia niente, vota a destra ma tanto si mettono d'accordo, allontana la gente, non è possibile che in alcune importanti città voti la metà della gente che ne ha il diritto. Chi non vota, chi non sceglie sbaglia dal mio punto di vista e perde, a prescindere perché il sindaco poi è quello che decide della tua vita quotidiana, della tua città, della tua asilo, della tua casa di riposo e sui mezzi pubblici che circolano sotto casa tua. Quindi non scegliere, non è mai una scelta giusta, però bisogna prendere atto del fatto che la gente va riconquistata coi fatti e quindi a Maroni, a Zai e a Cota l'onore e l'onere di rispondere coi fatti e io sono ottimista, la gente la Lega la vota e c'è ancora voglia di Lega, anzi secondo me crescerà. Forse anche questo è il dato di queste amministrative, significativo in negativo però il calo, in generale le amministrative andavano a votare più gente che alle nazionali. Penso ai milanesi che adesso si stanno pentendo di non essere andati a votare due anni fa e che adesso si beccano Pisa Pia per altri tre anni, quindi non scegliere non è mai una scelta vincente.